La Sagra nasce da un'antica usanza popolare quando, in occasione della potatura, i contadini raccoglievano le lumache e le cucinavano sui carboni ardenti. Dal 1978, la Sagra ripropone le lumache cucinate sulla brace nello stesso modo, semplice e gustoso. Le lumache trattate sono le Aspersa e sono accompagnate dai pregiati vini locali. La Sagra della Lumaca di Cantalupo di Bevagna è diventata una manifestazione culinaria molto conosciuta e apprezzata. che vede coinvolti tutti gli abitanti insieme alla Proloco Cantalupo Castelbuono, organizzatrice dell'evento. Questa Sagra ha la particolarità di avere il suo menù completamente a base di lumaca, antipasti, primi e secondi tutti cucinati a base di lumache. 80 quintali di questo mollusco per 10.000 visitatori in 10 giorni. un pivoto in 10 giorni. Grazie per la visione! Grazie a tutti.